Cioè regà no è incredibile, è incredibile quello che sta succedendo, non è possibile Io più che altro non ho capito l'espulsione del buffon, è successo tutto però Troppo in fretta, mo che è successo? Mo abbiamo abbassato il volume perché se no ovviamente il video diventa una schifezza Mettilo però poco poco, cioè che si sente perlomeno, sta entrando Shesny da quello che ho visto Sta entrando Shesny, ragazzi riguardando l'azione a me sinceramente Allora aspetta che la fanno rivedere Allora È abbastanza scomposta l'entrata Mamma mia che brutta Però ti posso dire una cosa, mi sembra, cioè ma perché hanno espulso Buffon? È forse per proteste Certo che fischiarlo all'ultimo secondo è una responsabilità assurda Sì ma fermate regà ma Benadì è entrato da fare schifo, è entrato malissimo Buffon Per proteste Buffon è espulso Sì ho capito ma in espulsione sai che deve parare rigore? Cioè ha rovinato la partita Sai che comunque deve tirare rigore? Ammoniscilo anche perché non credo Buffon fosse ammonito non mi pare A prescinde da quello che succederà ragazzi ci sarà uno strascico di polemiche infinito Infinito ragazzi perché la Juventus stasera ha letteralmente stracciato e dominato Surclassato e ti dico che qualora fosse riuscita a fare il quarto gol sarebbe stata un'impresa ben più grande di quella della Roma Perché comunque sia te la vai a giocare in trasferta e vieni da un 3 a 0 subito in casa Ma non solo Noi abbiamo fatto tre redi e con tre redi siamo passati ma in casa nostra E non è la stessa antica cosa ragazzi cioè questi qua veramente stavano Cioè potarsi non ancora detto l'ultima parola ma vediamo sto calcio di rigore vediamo quello che succede Vediamo quello che succede perché nel caso chiudiamo il video e non lo vedrete mai Questo è poco ma sicuro perché poi si potrebbe continuare Però io secondo me te dico quello che penso il calcio di rigore c'era ma Buffon non lo devi espelle Lo ammonisci per proteste ma non che lo espelli cioè voglio dire Cioè ma comunque anche metti caso dovesse parare il rigore comunque la Juventus si ritrova con uno di meno a dover affrontare i tempi supplementari Perché praticamente batte sto calcio di rigore e la partita è finita ragazzi non darà ulteriore recupero No 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 assolutamente L'ha fischiato praticamente a 20 secondi dalla fine dei tre minuti di recupero se non ho visto male cioè è una cosa incredibile Comunque ripeto se l'arbitro si è preso una responsabilità È enorme Enorme Perché La responsabilità è però te posso dire responsabilità enorme però a mio avviso Se ce sta ovviamente va fischiato anche all'ultimo secondo Però sembra assurdo che è successo proprio all'ultimo secondo Impressionante Vediamo se lo para ragazzi Io lo spero per voi tifosi della Juventus Per tutto il supporto che ci avete dato ieri Goll È annata ragazzi Goll Ragazzi Real Madrid quindi è in semifinale io credo che fischi qui Mo vediamo se fischia Non lo so ma credo Zidane ha mutolito neanche esulta ma giustamente non esulta perché È finita fischiato Non ci posso credere Non ci posso credere Sto l'incrocio all'ultimo minuto Ma quando ciò vi Ma quando ciò vi Io comunque stavo a pensare Dico ma qualora dovesse veramente passare la Juve Ma quest'anno a chi cazzo lo darebbero il pallone d'oro L'ho pensato Non ho fatto un tempo a pensarlo Hanno piato il carcio dei rigori No vabbè l'ho pensato prima Ho pensato tipo 20 minuti Ho appena preso il 3 a 0 Il Real Madrid Però Mamma mia adesso Giocatori della Juventus veramente incazzati come le belve perché Ma io credo che finisca qui No palla al centro addirittura Cioè questo fa Mette palla al centro per fa che? Magari farà un minuto extra di recupero Perché il gioco è stato parecchio fermo eh O magari segnalo mo Eh Vediamo Magari ecco Magari questa parte l'ultima azione adesso Non lo so ragazzi ma Secondo che questi saranno gli ultimi 30 secondi dai Guarda io ce stavo veramente 90 più 8 Io ce stavo veramente a crede Cioè sarebbe stato per l'Italia Oddio 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 sarebbe stato un orgoglio veramente Mamma mia Oddio Da che c'è stato l'ultimo calcio d'angolo sali Sali col portiere Sali con il portiere Sali con il portiere Ma che ha fischiato la partita? Ha fischiato la fine? Ha fischiato la fine Non ha fatto battere calcio d'angolo ragazzi Ma c'era calcio d'angolo perché Sì tu Non c'era Finita Mamma mia ragazzi No raga No così no Così no Mamma mia Io Così proprio no raga Non so proprio che di ma Mi sa che sta a partire anche Riarsamo il volume perché sta a partire A mezza rissa No 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 Tocca il giocatore Cioè a mio avviso l'entrata De Beraglia è scompostissima Però ripeto Secondo me L'espulsione De Buffon Cioè io non l'ho capita Cioè proteste Ammonisci Non so che cosa Eh ma va a capire È perché io sono venuto Della a chiamate Perché te la stavi a vedere Della Ma stavi imbriaco Sto a bagnare Sto a bagnare Nei supplementari Almeno nei supplementari Stavamo all'aspettarli Ragazzi miei Mi dispiace Alla prossima Con un nuovo video Ciao Ciao